Salve a tutti, bentrovati da Stefano Ghetti. Si chiude la lunga parentesi di maltempo che ha lasciato dietro di sé tanti problemi, purtroppo vittime, disagi. Si chiude questa parentesi davvero negativa sul fronte meteorologico e questo grazie all'arrivo di una figura di alta pressione che in questi ultimi giorni ha già cominciato a mostrare i primi segnali positivi sulle regioni del sud, su parte del centro. Adesso è coinvolto anche il resto della penisola. Peraltro nei prossimi giorni questo promontorio di matrice africana si congiungerà con una parte dell'anticiclone delle Azzorre che arriverà dall'Atlantico e si formerà un lungo ponte anticiclonico che proprio dal nord Africa si ergerà fino all'Europa centrosettentrionale. Conseguenze ovviamente l'arrivo della stabilità atmosferica anche se non dimentichiamo che in questo periodo dell'anno le alte pressioni non danno i risultati magari che danno durante i periodi estivi, periodi caldi. Si portano la stabilità atmosferica ma portano anche alcune insidie. Una fra tutte purtroppo è la nebbia, nebbia che sarà una delle protagoniste nei prossimi giorni. Chiaramente ci riferiamo alla Val Padana ma anche su alcuni litorali e anche su a parte delle aree più interne, le vallate interne del centro. Ma per il resto il sole splenderà in gran parte della penisola e per quello che riguarda le temperature cominceranno a perdere qualche punticino ovviamente di notte perché i maggiori rasserenamenti notturni permettono al calore di disperdersi più rapidamente nella libera atmosfera. Mentre invece i valori massimi chiaramente resteranno sempre piuttosto miti, cioè temperature superiori alla media del periodo. Se tutto verrà confermato almeno per i prossimi 4-5 giorni questo sarà il disegno del panorama meteorologico su tutta la penisola. Per ora è tutto, amici grazie per essere stati con noi. A più tardi.